Allora, mister Mattoni, si era messa male la partita, sembrava ripresa, peccato per il rigore fallito. Sì, come dicevo precedentemente peccato, ma quello che a me interessa è quello che ho visto in campo. La squadra non si è abbattuta, la squadra pure rimane in gara, contro, come sappiamo, una compagine che ha grande qualità, che ti può innervosire col suo tipo di calcio, sono stati bravi a mozzicarla questa gara. E a tenerla in vita fino al centesimo, l'episodio del rigore ci sta e fa parte del calcio, ma non mi sento assolutamente di pensare che questa sconfitta ci serve, una sconfitta che magari brucia, perché voliamo regalare qualcosa di importante alla memoria di Emanuele Mosca e alla sua famiglia per la tragedia che ha colpito. Abbiamo dato tutto, abbiamo dato tutto, i ragazzi sono esausti, ma io sono consapevole che questo atteggiamento sarà dura, sarà dura per tutti quanti. Ecco, Ministro, ora bisogna ricaricare un attimino le pile in virtù del fatto che poi domenica prossima ci sarà il primo dei due derby consecutivi, questa volta contro la Vigor. Certo, adesso stacchiamo un attimino, poi da martedì cominciamo a pensare alla Vigor, una grande squadra allenata da un tecnico bravo, esperto. Ma io non mi faccio la testa, lavoreremo in settimana, è la prima sconfitta, vediamo come verrà assorbita, ma dobbiamo rimanere con entusiasmo, dobbiamo ripartire dalle grandissime cose che abbiamo fatto e fatto vedere anche oggi. Il calcio è questo, episodi a volte ti danno a favore, a volte contro, ma l'importanza di un percorso passa dall'atteggiamento che mettiamo ogni domenica. A me mi sembra che abbiamo costruito sempre dal basso, cercando di trovare lo spiraglio giusto. Forse il primo tempo ho visto un Tolentino un po' più basso, eravamo noi che tenevamo il pallino del gioco. Poi nel secondo tempo, quando siamo andati sul doppio vantaggio, il Tolentino naturalmente ha cercato di recuperare la partita, ha preso un po' di campo e noi abbiamo fatto l'errore di abbassarci, ripeto sbagliando, perché avevo chiesto alla mia squadra di stare su, nello stesso identico modo in cui avevamo giocato fino al doppio vantaggio. Comunque, tre punti importanti dopo il pareggio che avete ottenuto la settimana scorsa contro il Pineto. Sono tre punti importantissimi perché questa comunque è una piazza tosta, questa è una squadra tosta che darà filo da torcere a tutti, quindi è una grandissima vittoria e sono molto contento che sia arrivata anche in questo modo, con un po' di sofferenza e con questi errori di cui abbiamo parlato, perché ci sarà modo di poter lavorare, ci saranno gli spunti per poter migliorare.